Il perché le persone continuano a indebitarsi e quanto sbagliato sia questa pratica. Partiamo da un argomento a me caro. Torno a parlarne stasera perché secondo me è molto importante che ci entri bene in testa questo concetto. Sto parlando dell'effetto Dunning-Kruger. Cos'è l'effetto Dunning-Kruger? Partiamo dal capire cos'è e di cosa si tratta. L'effetto Dunning-Kruger è un esperimento scientifico che due scienziati, Dunning e Kruger, della Connelly University, adesso non mi ricordo di preciso di quale università americana, hanno messo in atto nel 99, quindi il secolo scorso, ed è molto importante capire questo esperimento per capire anche il perché poi succedono certe cose in tutti gli ambiti della vita familiare, dell'amicizia, del lavoro, della politica. Cos'è l'effetto Dunning-Kruger? Io non voglio star qui a spiegarvi l'esperimento che è stato fatto. L'esperimento ha preso spunto da un evento che è successo nel 95-96 negli Stati Uniti, in cui un signore leggendo che, vi ricordate l'effetto dell'inchiostro simpatico, quello dell'inchiostro invisibile, scrivendo su un pezzo di carta con succo di limone, non si vedeva nulla, ma poi, se avvicinate a una fonte di calore, vengono fuori le scritte. Questo signore ha pensato, se io mi cospargo il corpo di succo di limone, divento invisibile. Che tanto ha fatto? Solo che il suo intento era delinquenziale, perché è andato a rapinare due banche. È andato a rapinare due banche, convinto, convintissimo di non essere riconosciuto e, anzi, ha anche fatto il figo, ha salutato le telecamere di sorveglianza e se ne è uscito con i soldi rapinati. 10 minuti dopo la seconda rapina sono andati a prenderla a casa e lui si è meravigliato di questo. Ma come avete fatto a scoprirmi se io avevo fatto questa azione con nessuno? E questo era talmente convinto della sua azione che non era per niente preoccupato, anzi, come ho detto, era sorpreso che l'avesse scoperto. I due scienziati sono partiti da questo fatto di cronaca per studiare un concetto, un concetto che ha dato quale risultato. Ripeto, non vi sto qua a spiegare i vari esperimenti che hanno fatto, ma il risultato di questi esperimenti, scientificamente provato, è che è inequivocabile, più una persona è ignorante, più è convinta di sapere. Si tratta di un cortocircuito mentale che condanna chi è incompetente a non accorgersi della propria incompetenza. Loro sono stati scienziati e l'hanno messo, cioè proprio l'hanno messo per iscritto, anzi, hanno fornito le prove di quello che già Socrate nel V secolo a.C. diceva. Socrate infatti avvertiva. Il sapiente è solo chi sa di non sapere, non chi si illude di sapere, tanto da ignorare così perfino la sua ignoranza. Lo diceva Socrate nel V secolo a.C. I scienziati l'hanno reso una cosa scientifica provata. Addirittura nel XIV secolo a.C. un faraone egiziano, Akenaton, faraone, diceva «Il folle è ostinato e non ha dubbi, conosce tutto tranne la sua ignoranza». Abbiamo le prove scientifiche che più una persona è ignorante, più è convinta di non esserlo, anzi, più è convinta di essere preparato e competente. Il contrario è la persona competente che ha talmente paura di non essere competente da sminuire le sue competenze. C'è proprio l'effetto contrario. Quindi l'effetto Dunning-Kruger, con questa teoria, io ogni tanto rispondo anche ai commenti sui social. Sono partito dall'esperimento scientifico per arrivare. Perché questo? Perché, come diceva il compianto Umberto Eco, autore di uno dei libri più belli che abbia mai letto, «Il nome della rosa» e anche da cui è tratto uno dei più bei film che abbia mai visto, Umberto Eco diceva che la rete, i social, soprattutto Facebook, hanno dato voce e visibilità globale a legioni di imbecilli. Umberto Eco, non lo dico io, eh! Lo ha detto Umberto Eco. Ed effetti, è vero. Legioni di imbecilli che sfogano la loro ignoranza in Facebook, diventando esperti di qualsiasi altro. Vi faccio alcuni esempi. Una settimana fa, dieci giorni fa, è uscito un posto di una persona che è andata a una gelateria e ha comprato un cono gelato e ha pagato 70 euro. È un'esagerazione? Non è un'esagerazione? Io probabilmente non comprerei mai un cono gelato da 70 euro. Ma si è scatenata sotto questo posto di questo signore tutta una serie di commenti, dai più stupidi, quindi ladri, truffatori, eccetera, a quelli più, Dunning-Kruger, che tentavano di spiegare che il costo delle materie prime non avrebbe mai giustificato un prezzo così per un gelato, come se fossero solo le materie prime al prezzo di un prodotto, ma si sono sfogati talmente in maniera da imbecilli che io non volevo crederci. Una persona intelligente, io credo di esserlo anche su molti limiti, vede un gelato da 70 euro, cosa fa? Niente. Fa i complimenti a chi lo fa, a chi riesce a venderlo, e se non se lo vuole o non se lo può permettere di comprarlo, lo lascia là. Non rompe i maroni alle persone che hanno deciso di vendere sul libero mercato, io posso vendere un prodotto al prezzo che voglio. Ok? Mi metto a produrre telefoni, posso decidere che il mio telefono costa 10.000 euro. Se qualcuno lo compra, avrò ragione io, se non lo compra nessuno, calerò il prezzo. Ma nessuno può accusarmi di essere un ladro, un truffatore. Ladro e truffatore è chi ti prende qualcosa con inganno, ok? Oppure chi ti ruba qualcosa. Ma se tu vieni dentro nel mio negozio, mi fai fare il cono, vedi scritto che costa 70 euro, e io te lo do e tu mi dai soldi, tu non sei stupido e io non sono un truffatore. Sbaglio? Eppure sotto il posto di una persona che ha osato comprare un cono gelato e stanta euro si è scatenato l'inferno. Stessa cosa di quelli che vanno in Galleria Milano, Galleria Vittorio Emanuele, vanno dentro dal ristorante da Cracco, dove i prezzi sono esposti, dove una spremuta, è scritto che una spremuta costa 9 euro, è scritto che una bottiglia di acqua minerale costa 7 euro, vanno lì, prendono la spremuta, prendono l'acqua, vanno fuori, fotografano lo scontrino, lo pubblicano, mi sono stato ladrato da Cracco. Ma sei tu che sei un coglione, porco cane. Capito? Il livello di ignoranza e analfabetizzazione che c'è in questo paese, gente che fa di tutto per avere visibilità, per avere 5 minuti di visibilità, anche se non sai nulla di niente. E lo stesso cosa succede sotto i nostri post, sotto i nostri post, sotto le nostre pubblicità, sotto i nostri articoli, succede la stessa identica cosa. Ci sono legioni di imbecilli, io quando li chiamo, li chiamo in maniera un po' più brutale, ma uso le parole di Umberto Eco, e quindi sono quasi un intellettuale, sono politically correct. Uso le parole di Umberto Eco, ci sono legioni di imbecilli che vengono a scrivere sotto i nostri post. E sia chiaro, loro non lo fanno perché cercano una soluzione, non lo fanno per cercare una soluzione. Loro cercano solo qualcuno a cui far notare la loro sapienza. cercano qualcuno da insultare, cercano qualcuno da mandare a fanculo, perché così ci scrivono, cercano qualcuno che ci dice uccidetevi, ok, perché c'è qualcuno che arriva anche a dirci determinate cose, ma lo fanno solo, unicamente per avere quell'attimo di visibilità, sentirsi fighi. Poi se li ribatte, nella maggior parte delle volte, queste persone, ma neanche ti rispondono, neanche rispondono, non hanno argomenti. Sono quelli che scrivono attenzione alle truffe, sono venditori di fumo, vi fanno firmare le cambiali. falsità enorme, perché non è mai successo, non so dove si è niente. Hanno truffato mia sorella, mia nonna, mia cugina, ho sentito che il mio amico è andato da loro, un mio amico ci è cascato. Gente che non hanno mai avuto a che fare con noi, noi abbiamo tutto registrato su CRM, CRM è un database, per cui, dal primo giorno in cui abbiamo aperto, qualsiasi telefonata o qualsiasi mail che ci è arrivata è tutta lì detto. Io quando uno di questi imbecilli scrive in Facebook, lo dico già in modo che se qualcuno mi sta ascoltando eviti di fare il fenomeno, ok? Ciao Franco e ciao Gabi. Uno di questi imbecilli ci scrive, io vado nel CRM e vedo subito se c'è stato da noi, se ha chiamato, se ha lasciato i suoi dati, se ha avuto un appuntamento, se ha fatto, qualsiasi roba abbia fatto, bene, tutti questi, le giovani imbecilli che fa parte della prima categoria dopo la seconda non hanno mai avuto a che fare con noi. È gente che vuole sentirsi fighi, vuole farsi notare, vuole semplicemente insultare perché hanno una vita talmente povera, talmente stupida, talmente inutile che cercano qualcuno da insultare. Perché se si mettono a insultare la moglie prendono manganellate sulla testa, probabilmente, quindi si sentono fighi perché a casa sono frustrati e si ergono a salvatori della patria. Attenzione, non cascateci, io so, io lo so come funziona, so tutto e vi dico io dall'alto della mia sapienza, attenzione, non cascateci. Questa è la categoria più diffusa fra le legioni di imbecilli, parole di imbecilli, ok, che frequentano i social e soprattutto frequentano Facebook. Poi, ci sono quelli che invece cercano veramente di risolvere i loro problemi. E allora, quelli sono da tenere in considerazione. Infatti, a quelli della legione di imbecilli qualche volta cancellano anche i posti, a quelli che cercano veramente la soluzione non vi permetto di cacciare. Anche se a volte anche questi diventano pesanti perché qual è la caratteristica della maggior parte di questi è che vorrebbero che tu gli risolvessi i loro problemi in maniera totalmente gratuita perché nella loro testa giustamente dicono ma se io ho i debiti non ho i soldi per pagarti. Quindi, se tu vuoi togliermi, se c'è una legge ed è una legge dello Stato tu devi lavorare per me gratuitamente oppure quelli più evoluti dicono lavori per me adesso e io ti pagherò alla fine. Alla fine di cosa non l'ho mai capito visto che noi non gli portiamo a casa dei soldi se non mi paghi ora con cosa mi paghi dopo punto di un altro punto di domanda però a questi cerco di spiegare la nostra posizione e come siamo tra virgolette costretti ad operare come tutti i professionisti d'altronde ok? Quindi cerchiamo di far capire loro e la maggior parte di questi siccome non sono non fanno parte della legione di impecini di prima sono veramente persone che stanno cercando di risolvere i loro problemi e facciamo di tutto per aiutarli anche nello spiegare come lavoriamo e come si deve lavorare e quindi quelle persone poi ci sono quelli che invece è qui l'argomento clou della puntata sono quelli che vogliono risolvere il problema come hanno sempre cercato di risolverlo finora cioè facendo un prestito chiedendo un finanziamento ok? queste persone vogliono risolvere il loro problema nella maniera più sbagliata possibile ok? vogliono chiudere dei debiti facendo altri debiti ed è una cosa che è successa in maniera continua e molto diffusa in questi anni e che in questo periodo si sta sviluppando sempre di più cioè io ho fatto un debito non riesco a pagarlo faccio un altro debito per pagare quello prima poi ne ho due di rate da pagare mi trovo in difficoltà faccio un altro debito per pagare le rate che ho detto e via così questo è iniziato nel 2005 nel 2006 anche prima quando le banche erogavano finanziamenti a tutti hanno erogato prestiti hanno erogato mutui a tutti e per tutti poi questo ha fatto ha creato il boom immobiliare quindi tutti dovevano comprare le case perché tutti vedevano che le case nell'arco di X anni avevano delle rivalutazioni enormi rivalutazioni false mercato drogato ma tutti ma io conosco professionisti commercialisti avvocati che con i soldi guadagnati nella loro professione si sono messi a fare gli immobiliaristi in quegli anni tutti compravano costruivano facevano case palazzine eccetera stiamo parlando degli anni 2002 2003 2004 poi nel 2005 2006 c'è stato il boom dei mutui ok in cui andavi in banca volevi comprare una casa da 100.000 euro la banca siccome le case vanno su per su le valutavano 150 così te ne davano 120 130 di mutuo pagavi la casa pagavi il nottaio ti compravi anche la televisione al plasma e i mobili e questo è successo per quegli anni in maniera devastante perché devastante perché l'idea è che sarebbe andato sempre tutto bene apposito andrà tutto bene astrag a quel tempo non c'era l'astrag ma il pensiero comune di chi comprava casa di chi faceva il mutuo di chi ti erogava il mutuo di tutti era andrà sempre tutto bene cosa che abbiamo visto purtroppo non è andata così con la crisi partita dall'America nel 2007 2008 2009 abbiamo avuto un mercato una crisi devastante sto parlando del 2008 2009 come ho già detto tante volte l'anno peggiore di quella crisi per il calo del pil è stata nel 2009 meno 5% sapete qual è stato l'anno record di fallimenti aziendali 2014 dopo 5 anni ci sono stati sull'economia ci sono stati gli effetti più devastanti di quella crisi nel 2014 sono fallite sto parlando di fallimenti 41 aziende al giorno compreso Natale Pasqua Santo Stefano Giorno dei Morti e Capodanno quindi vi lascio immaginare cosa succederà nei prossimi anni visto che quest'anno il pil calerà del 10 se andrà tutto bene basta andrà tutto bene il pil calerà del 10 forse sarà il 12 forse sarà l'11 forse sarà non si sa ma andrà tutto bene io credo che nel 2021 no ma nel 2022 2023 vedremo i veri effetti del covid e i 35.000 morti pace l'anima suo loro e tutto rispetto per chi ne ha persi saranno bruscolini e se lo dico io che sono ottimista di natura ma i numeri parlano chiaro e la storia parla chiaro ok quindi qual è la cosa più sbagliata da fare e lo dico perché molti oggi ci stanno chiamando per chiederci un finanziamento noi parliamo di debiti parliamo di come risolvere la problematica dei debiti l'associazione mentale di tante persone qual è questi mi risolvono i debiti dandomi altri debiti ed è dura spiegare che non è così vi garantisco che è dura per i nostri operatrici per le ragazze che ricevono le telefonate per i miei agenti è dura spiegare che non è così che si risolve il problema dei debiti eppure loro vedono i nostri spot la nostra pubblicità quello che scriviamo associano soluzione debiti mi fai un finanziamento perché nella loro testa l'unico modo per risolvere la problematica dei debiti è fare altri debiti vi garantisco che è una cosa devastante sentire ogni giorno persone piene di debiti che ci chiamano per avere altri debiti perché le cose non andranno tanto era 3.000 ti do una rata da 1.000 ma uno poteva anche perdere il lavoro nessuno ci ha mai pensato ok cosa è successo che invece questi imprevisti sono successi e le persone cosa hanno fatto in banca non potevano più andare sono andate dalle finanziarie sono andate dalle società finanziarie a chiedere un prestito perché nelle banche nel frattempo nel 2008 2009 2010 2011 hanno chiuso i rubinetti non erogavano più infatti chi vendeva leasing chi vendeva mutui del tempo ha dovuto riqualificarsi fare un altro lavoro perché le banche non erogavano più finanziamenti a nessuno ma le finanziarie Agos Agompass come dicono i miei amici di Napoli la Fin Domestic e Santander e BPA un sacco di finanziari hanno erogato a man bassa senza controllare se tu avevi un'altra rata un altro mutuo se avevi capienza se tua moglie lavorava o non lavorava avevi una busta paga che tanti hanno anche falsificato per aumentare ok loro erogavano e via soldi finanziamenti su finanziamenti poi insieme al finanziamento top prenditi anche sta carta revolving poi diventa una carta come dicono tanti revolver perché è peggio di un'arma visto che hai l'interesse del 24-25% e arrivi a una situazione noi ne vediamo ogni giorno situazioni in cui hai uno stipendio di 2000 e hai 1850 euro di latte hai uno stipendio di 1500 e hai 1300 euro di latte ma io mi chiedo adesso non offendetevi ma qual è il meccanismo mentale che scatta e porta un dipendente con uno stipendio fisso perché un imprenditore può sempre avere la possibilità di aumentare le sue entrate essendo imprenditore può fare delle azioni per cui le sue entrate oggi sono 100 e l'anno dopo possono essere 200 300 sei un bravo ma un dipendente che guadagna 1500 euro adesso guadagnerà 1500 euro rapportati anche fra tre anni anche fra 8 e anche fra 10 qual è il meccanismo che scatta nel momento in cui si continuano a fare rate sapendo che il tuo reddito sarà sempre quello cioè come speri di risolvere il problema aspetti un'eredità forse ma se per sfiga non muore nessuno oppure quelli che muoiono non hanno niente da lasciarti e com'è che sperate di risolvere il problema dei debiti continuando a fare altri debiti è una chiara mancanza di educazione finanziaria non è possibile pensare se uno ha uno stipendio fisso di risolvere il problema dell'indebitamento facendo altri debiti poi vanno di moda adesso e molte banche e molte finanziarie li propongono i mutui per consolidare i debiti perché sai hai fatto il debito della casa poi non sei riuscito a pagarlo sei andato da compass poi sei andato da fin domestic poi hai un'altra rata da cessione del quinto eccetera hai quattro rate mensili cinque non sai come districarti arriva la banca che ti dice guarda li raggruppo tutti io e ti faccio un'unica rata che poi vai a sommare tutte le rate che avevano erano più basse dell'unica rata che di fare sulla banca perché? perché la banca sa come prenderti in questo momento ti dice guarda ti consolio tutti i debiti ti do anche tre quattro cinque mila euro in più per la tua liquidità spicciola e quindi questo respira 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 questo è come vi prendono come dei drogati e vi attirano nella loro trappola banche finanziarie se c'è un minimo spiraglio loro vi indebitano totalmente tanto è vero che la nuova legge tre che entra in vigore l'anno prossimo prevede la punibilità per quelle istituzioni che erogano troppo credito a chi non ce lo può permettere finalmente dico io perché fino adesso sono è incolpato colui che ha preso i debiti cioè se tu hai fatto troppi finanziamenti non sei meritevole però è anche da capire che se uno ha sete e si trova nel deserto passa qualcosa che ha qualcosa di liquido lo prende su che sia buono o cattivo e la sete lo porta a bere poi magari non è proprio acqua pulita e fai una settimana di diarrea per il momento non viene a sete sta morendo sta morendo di sete e prende quello che gli ha lì e qui i debiti funzionano la stessa cosa tu vai là e gli fai da specchietto gli dici ti do un altro 3-4 ti rinegozio il debito ti do 3-4 mila euro di liquidità spicciola e il debito diventa sempre più cioè la soluzione per chi ha debiti non è assolutamente indebitarsi ancora non è assolutamente indebitarsi ancora poi come dice Nicoletta manca poco alle pensione guadagni 1.500 euro poi vai in pensione la pensione di 1.000 zacchete 1.000 se ti va bene 1.000 per quelli che sono andati in pensione una volta o 1.000 per quelli che andranno in pensione adesso per noi non saranno 1.000 e neanche 800 quindi anche questo sarà un altro problema la soluzione per i debiti non è indebitarsi lo dico e continuo a dirlo e lo dico io poi che come sapete ho avuto esperienze di debiti la soluzione non è indebitarsi la soluzione è non fare debiti il debito deve essere un debito buono un debito buono è quello che serve per acquistare un macchinario che ti produce reddito che ti permette di pagarlo questo debito un debito buono è quello che fa l'imprenditore che deve investire nella sua azienda un privato cittadino non dovrebbe fare debiti il debito cattivo è quel debito che fai per comprare delle cose che non producono reddito la domanda viene scontata ma io come faccio a comprarmi la casa non la compri non è obbligatorio comprare una casa non è obbligatorio non c'è scritto da nessuna parte che bisogna comprarsi la casa se non puoi comprarti la casa fai come tutti quelli che non possono comprarsi la casa fai in affitto è semplice la macchina la compri quando hai i soldi per comprarla se sei un rappresentante un agente di commercio che lavora con la macchina e la macchina è una sua fonte di reddito allora puoi fare un debito un volegio un lesi eccetera ma se sei un privato cittadino non sei obbligato ad avere la macchina bella e se la vuoi la macchina bella la compri quando hai i soldi per comprarla è così la televisione è così l'iPhone è così tutto quello per cui la gente si è straindebitata in questo ma vi ricordate una volta quando andavate in un negozio e se pagavate in contanti pagavate subito vi facevano lo sconto adesso se vai a comprare la macchina se vai là con i soldi non li vogliono neanche ti vogliono fare il debito ti vogliono fare il finanziamento perché? perché guadagnano più i concessionari guadagnano più dalle commissioni che percepiscono dal finanziamento che dal margine che hanno sulle macchine allora chiediamoci perché noi non dobbiamo fare il finanziamento il debito deve essere fatto per comprare qualcosa che produce il reddito un mutuo per comprare una casa a 30 anni di durata una casa che la paghi 100 col mutuo che diventerà 300 una farona della madonna la paghi il triplo devi lavorare giorno e notte per pagare una cosa che non puoi goderti perché devi lavorare per pagarla ci vai in affitto non è vergognoso andare in affitto lo so che in Italia è una cosa sembrano soldi buttati via ma pagare una cosa tre volte quello che vale più tutte le manutenzioni più tutte le tasse non sono soldi buttati via ma ve lo chiedo fate un conto ma io lascio i figli se i figli ok il debito va cancellato dalla nostra vita se vogliamo vivere sereni i debiti vanno tolti vanno cancellati e quando i debiti diventano tanti quando i debiti diventano troppi non c'è soluzione alternativa alla legge 3 2000 tutto quello che vi propongono sono pagliativi ok ma non sono risolutivi nessun strumento esiste che elimina definitivamente i debiti che non puoi pagare se non la legge 3 2015 è l'unico strumento che può aiutarti a risolvere il tuo problema di indebitamento e fin qua ci siamo è importante affidarsi a dei professionisti però è importante affidarsi a dei professionisti perché altrimenti anche la legge 3 2012 non solo non è uno strumento che ti risolve i problemi ma te li incasina ancora di più perché abbiamo visto nelle puntate scorse in tutte le puntate esempi sopra esempi di professionisti che hanno fatto di quelle cavolate mostruose ok a dei clienti che si rivolgono a loro per risolvere come ultima spiaggia perché uno che fa la legge 3 è l'unica la soluzione finale ok e si rivolgono a questi professionisti che non hanno il coraggio di dire guarda io non ci capisco una mazza di legge 3 vai da chi la sa non ce l'hanno ma se arrivassero a dire così sarebbe già tanto ma questi fanno anche gli sboroni cioè fanno anche i professoroni e vi racconto un esempio di oggi oggi mi arriva un articolo ok apparso nel sito del ADUC ADUC è un'associazione di diritti degli utenti consumatori una delle tante associazioni che fanno un onorevole servizio quello di difendere gli utenti un avvocato un avvocato nel sito dell'ADUC scrive un articolo sulla legge 3 commentando una sentenza ovviamente non sua perché fosse stata sua non l'avrebbe commentata così spiegando come funziona la legge 3 e spiegando questa sentenza credetemi è da oggi pomeriggio che io e i miei collaboratori ridiamo leggendo questa sentenza anzi non la sentenza ridiamo leggendo il commento di questo avvocato avvocato non è un giornalista che scrive non è una persona è un avvocato che si spaccia per mega esperto anzi c'è scritto sotto legale nel lago quindi venite da me che vi risolvi i problemi di legge 3 questo qua non ha capito una sentenza cioè ha letto la sentenza non l'ha capita ha fatto ha messo insieme la liquida da quant'è che parliamo di legge 3 qui ormai chi mi segue è diventato esperto anche lui cioè piano del consumatore l'accordo di composizione la liquidazione del patrimonio ormai lo conoscete anche voi le varie fasi dell'accordo ecco questo avvocato ha messo all'interno di questa sentenza che è una sentenza di liquidazione del patrimonio ha messo dentro un piano del consumatore una liquidazione non ha capito la sentenza che ha letto e questo è una cosa questo è il pericolo vero andare nelle mani di queste persone è il pericolo vero questa sentenza parla di liquidazione del patrimonio in cui una persona mette a disposizione quello che ha per liberarsi di tutti i debiti e siccome la liquidazione del patrimonio io l'ho capito siccome la liquidazione del patrimonio prevede anche che negli 4 anni seguenti tu debba mettere un qualcosa del tuo reddito per comporre il pagamento dei debiti lui ha messo insieme liquidazione della casa della macchina e in più piano del consumatore perché ogni mese paga 500 questo è un esperto questo è un esperto pensate voi è un avvocato avvocato ok quindi state attenti da chi andate fatevi mostrare i risultati ottenuti fin qua noi non avete il problema di chiederceli perché ve li mostriamo subito potete andare sulla nostra pagina facebook e trovate tutte le sentenze che abbiamo avuto finora andate sul nostro sito www.leggetre.it c'è una sezione dei nostri successi e ce ne sono decine non riusciamo neanche a pubblicarli tutti andate nella sezione della segna stampa e vedete tutti gli articoli che i giornali le tv ci hanno dedicato quindi se dovete fare un qualcosa fatelo seriamente e rivolgete a chi fa seriamente questo tipo di lavoro io vi saluto vi ringrazio vi do una buonanotte anzi no vi ricordo il nostro mitico fumetto ok questo fumetto è in vendita su amazon ve l'ho già detto il ricavato delle vendite di questo fumetto ci servirà per aiutare quelle persone che proprio non hanno spazio per fare per pagare neanche i bolli e nel limite di possibile noi già lo facciamo a qualcuno già diamo dei aiuti concreti questo fumetto ci aiuta a raccogliere dei fondi per aiutare le persone in difficoltà compratelo costa 5 euro compratene 4 o 5 regalatelo ai vostri amici regalatelo ai vostri conoscenti perché è bello da leggere molto istruttivo non perché l'ho fatto io ma perché è veramente fatto fatto molto molto Amazon cliccate legge3.it o cliccate Gianmario Bertollo vi viene fuori acquistatelo acquistatelo perché fate un'opera di bene sul serio ed è molto molto istruttivo ok vi saluto buonanotte buona vita ci vediamo mercoledì prossimo ciao buonanotte 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 buona buona buonanotte buonanotte bei